per me è un bisogno sono una ninfomane che voglia di dire di no di no di no a tutti quelli che vengono con me non mi portano nemmeno un fiore vogliono una cosa sola divertirsi ma loro possono farne a meno per me è un bisogno per guarire ho provato con le medicine ma non era la strada giusta mi sono stancata di vivere intontita ho smesso di prenderle e ho ricominciato i miei minuti sono ridiventati anni e polvere di vita sporca già so che quando il mio corpo sarà un vestito sciupato e la mia bellezza si sarà spenta mi aspettano giorni brucianti e notti senz'altra luce che quella dell'orologio commento ogni pessimismo sulle nostre limitazioni è segno che non sia ancora compreso perché viviamo si vive per trascenderci e possiamo trascenderci solo attraverso le esperienze chiamiamo queste esperienze belle o brutte ma dal punto di vista della legge esse sono solo eventi vibratori che devono produrre comprensione se non la producono le esperienze si ripetono nel corso delle vite pressoché uguali uguali